Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove ASICS FUJISPEED 2, una scarpa completamente diversa dalla vecchia FUJISPEED, sicuramente più adatta a tante persone, di cui adesso vediamo pregi e difetti e l'interrocessione completa. Iniziamo come al solito da qualche caratteristica fornita dalla casa per queste FUJISPEED 2. Per quanto riguarda la suola troviamo la suola ASICS Grip di casa ASICS, un nuovo intersuola in FF Blast Plus, un'intersuola con uno stack di 30 mm nel tallone e 25 sull'avampiede per un drop di 5 mm, il tutto per un peso di una taglia 42 maschile di 245 grammi. E adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dalla suola di queste FUJISPEED 2, come dicevo suola ASICS Grip, che abbiamo imparato a conoscere negli anni, una suola che garantisce sempre delle ottime performance. Davvero una suola che sul terreno asciutto va da dio, nessun problema, anche su roccia bagnata si comporta molto bene. In questo caso, avendo dei tasselli non tanto pronunciati, secondo me parliamo di un tassello nell'ordine dei 3 mm, parliamo di una suola che sul fango non va così tanto bene. Tende molto a far scivolare, non ha una grandissima grip. Però, vabbè, alla fine parliamo solo di fango, per il resto davvero tutto quello che è roccia, anche roccia bagnata, lì si comporta molto molto bene. Arriviamo alla prima grande novità di questo nuovo FUJISPEED 2, ovvero l'intersuola. È cambiata la mescola, in questo caso troviamo un FF Blast Plus, come vi dicevo, che è veramente molto molto reattivo. Ha quell'ottimo compromesso tra cushioning e reattività. E poi la reattività è data anche dalla nuova piastra di carbonio che troviamo all'interno dell'intersuola. Una piastra a tutta lunghezza che veramente dà un sacco di reattività. Vi assicuro che utilizzare questa scarpa anche a 4 al chilometro si va via che è una bellezza, si riesce a spingere veramente molto bene. La rullata è molto veloce. Questa piastra poi fa sì che la scarpa tenda a essere abbastanza rigida. Questo, soprattutto nei terreni sconnessi, può essere un pochino un problema perché non vada a secondare l'asperità del terreno. E infatti poi vedremo che sicuramente il terreno sconnesso non è il posto migliore dove portarla. Arriviamo alla parte superiore della tomaia, iniziando dal puntale. Qui troviamo un puntale che è abbastanza morbido. È abbastanza morbido, molto facile farsi male se avessimo prendere dentro qualche roccia o qualche radice perché è veramente poco strutturato. In compenso però troviamo tutta una parte ricoperta, come dire, un pochino più rinforzata, che va fino alla metà del piede. Che in questo caso ci può aiutare nel momento in cui magari prendiamo qualcosa di striscio o di traverso, ci evita di sentire particolare dolore. E poi va a proteggere la tomaia. Tomaia in sé, che è veramente molto leggera, molto traspirante, realizzata in un materiale che sembra quasi plastico o al tatto. Una tomaia che vi assicuro potete utilizzare questa scarpa anche a 35 gradi, naturalmente con il giusto calzino, andrete via tranquillamente senza sudare. Perché è una scarpa, vi assicuro, veramente molto molto traspirante. Per quanto riguarda il tallone, anche qua è un tallone completamente nuovo. Un tallone abbastanza strutturato nella parte inferiore, che pian piano che si sale tende ad essere più destrutturato. Un tallone che alla fine fa sì che questa scarpa comunque abbia anche un buon bilanciamento e comunque anche una buona stabilità. Anche correrci in discesa è difficile prenderci delle storte. Per quanto riguarda invece l'imbottitura, abbastanza minimal, però comunque ce n'è. Ci aiuta nei momenti in cui dovessimo camminare un po' di traverso. Sicuramente un tallone completamente nuovo rispetto alla vecchia versione, un tallone che fa sì che questa scarpa possa essere utilizzata da molte più persone. Arriviamo infine a linguetta e lacci. Una linguetta di tipo racing, quindi veramente sottile, che però ha una piccola imbottitura nel punto in cui vanno ad esserci i lacci. E questo davvero le conferisce un ottimo fit e un'ottima morbidezza perché isola molto bene dai lacci. Lacci, classici, a sezione piatta. Mi piace che siano zigrinati nella parte esterna in modo tale che quando li andiamo ad allacciare non si vadano ad aprire. E questi poi li possiamo richiudere all'interno di un elastico per evitare che sballonzolino. Per quanto riguarda la soletta, questa classica soletta di ASICS io mi ci sono trovato bene. È removibile se volete rimuoverla, però come detto mi sono trovato bene e andremo avanti tranquillamente a utilizzarla. Arriviamo dunque a capire su che terreno utilizzare queste Fuji Speed 2. Parliamo di terreni molto semplici, strade bianche, single track, battuti. Io vi terrei tutto quello che è roccia, sicuro, e anche terreno particolarmente sconnesso perché questa piastra non aiuta nell'andare sul terreno sconnesso. Diciamo quelle gare che magari si svolgono a bassa quota, dove può anche fare caldo e l'automaia in questo aiuta, ma dove troviamo dei sentieri molto molto semplici. A che corridore la consiglio? Secondo me va bene un po' a tutti, a patto che si abbia già un po' di esperienza con una piastra di carbonio. E a patto che ci sia dei corridori che si corre, cioè delle persone che corrono la maggior parte del tempo in gara e che camminano poco. Per quanto riguarda invece la distanza che ci farei, secondo me questa può andar bene anche a farci anche una 60-70 km. Non a caso l'atleta ASICS che ha partecipato qualche giorno fa alla OCC, una gara dell'UTMI, ci ha vinto la gara da 50 km. Quindi sicuramente possiamo utilizzarla anche per delle gare abbastanza lunghe. Starei comunque sotto il 100 km massimo, ecco, sopra magari non andrei. Dato ciò, arriviamo alle conclusioni per queste ASICS FUJISPEED 2. Per quanto riguarda il prezzo, vengono vendute a un prezzo di 180€ sul sito ufficiale ASICS e online si può trovare a qualcosa meno. Il prezzo secondo me è molto, molto competitivo. Considerato che hanno una piastra in carbonio, molte scarpe con una piastra in carbonio stanno anche sopra i 200€. Quindi questo sicuramente è un prezzo abbastanza competitivo. A livello di materiali, secondo me è una scarpa col quale si può andare avanti veramente per tanto tempo. L'unica cosa è la suola che magari si può andare a usurare nell'arco di 400-500 km. Ma quello è molto anche personale in base a come utilizzavo la scarpa. Però sì, devo dire che è una scarpa che mi è piaciuta. Fortunatamente è stata rivista dal modello precedente perché quello là era veramente troppo estremo. E questa scarpa ve la consiglio perché davvero io mi ci sono trovato molto molto bene. Dato ciò ragazzi, nella speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!